Ed eccoci dunque a commentare direttamente da Bologna questa sfida, meno 4 alla fine della regular season e subito la Knorr in campo con Bruno Monti, Danilovic, Wennington, Paul Debella e manca l'ultimo Pinelli dall'altra parte Lombardi schiera, Michael Richardson insieme a Tabak, un Richardson osannatissimo come dicevamo prima Mentasti, te piccoli e sta per entrare anche Tanta di attaccare Perrine molto esterne, la Bacher trova Mentasti di lato e realizza Mentasti Negli ultimi tempi però, uno davvero dei grandi imputati di questa stagione Ci si chiamano Danilovic, Moretti, mentre Atruja va a tirare, grande canestro di Atruja All'angolo ideale, lei Richardson il contropiede, Mentasti, buon assist, Mentasti due metri dentro Il pallone che gira molto per l'inesterno, 9 metri per Atruja dentro, incredibile Adesso serve Bruno Monti, jump shot vincente di capitano Morandotti Da 5 metri, non sbaglia Il contropiede con Danilovic, velocissimo Poi Richardson tutto da solo, penetrazione eccellente, poi recupera un pallone Dopo il rimbalzo di Tava che va a realizzare, gli applausi sono tutti per lui Richardson giunto a quota, 9 punti Sospensione vincente di Richardson che fa un saltare indietro ma riesce ugualmente a portare a 30 la base Esce dalla riga dei 3 punti, Sbaragli ci prova e realizza da 2 punti, ha pestato la linea Richardson da 3 punti, realizza Richardson, Livorno avanti di 12 lunghe Atruja, bella entrata, poi Tavac, il calestro di Tavac, il fallo anche Tutto da solo, va a schiacciare Richardson Serve molto bene Carrera che va a schiacciare dall'altra parte Ottimazione di Col de Bella, Guizzo vincente in fine di Carrera E ancora 9 punti Il pallone del basket bolognese, adesso Zultano per il canestro Finale di Novi, c'è un canestro pesante e importante Il pesante dovrebbe essere importante, ci prova Bon e realizza con un po' di fortuna Fa esplodere i mischi del pubblico e il canestro di Gallinari L'ultimo pallone della gara, 5, 4, 3, Richardson da 3 punti Sbaglia, supplementare Il pallone della Bacca, commentaste, Richardson Partita a fiume a Bologna Sbaglia il secondo, l'Albatros, Tavac Danilovic va a realizzare Più 2 per Macron È importante rispondere punto su punto, Bon Sospensione E realizza Bon Finalmente I fischi adesso sono anche per lui Sempre Brunamonti Balli ancora Brunamonti E Richardson con il pallone Il pallone non fischiato, Richardson Adesso Bon da 3 Bon dentro 5, 4, 3, 2, 1 Il tiro E l'errore Vince la Bacca a Bologna Incredibile Lo vediamo sicuramente nelle immagini di Marco Pagiolini Incredibile emozione Bacca tra gli applausi scroscianti del pubblico Espuglia Bologna